Buon pomeriggio! Anche oggi potrete appassionarvi ai talk show di Rai 2. L'Italia sul 2 è condotto da Monica Leofreddi e Milo Infante ricco di curiosità e dibattiti e alle 15.45 al Posto Tuo con Paola Perego. Alle 17.15 nello spazio dedicato ai più giovani vedrete i cartoni animati della serie Nadia, Art Attack e le nuove avventure di Braccio di Ferro. Alle 18.10 l'informazione di Sportsera e alle 18.50 il telefilm The District con la prima parte dell'episodio Scacco a Magnon. Vi auguro una buona visione!